Avviare una serie di progetti, sino a sette quelli presentati, dai quali due approvate dalla Regione Campania, destinati alle persone con disabilità. E' quanto prevede il protocollo d'intesa siglato al Comune di Salerno tra l'assessorato alle politiche sociali di Palazzo di Città e la cooperativa sociale Icaro, che fa riferimento all'Anfa Sonlus. Progetti di vita è il nome dell'iniziativa, che consentirà di elaborare insieme ai cittadini progetti individuali in collaborazione con l'ASR, le scuole ed altri soggetti della società civile. Un'intesa che prevede anche un percorso formativo per il personale del Comune di Salerno. Sono state approvate dalla Regione Campania, prevede sicuramente un'equip multidisciplinare dove mette insieme quelle che sono le azioni che vengono fatte sulla persona con disabilità, ogni istituzione per le sue competenze. Quindi riusciamo adesso finalmente a mettere in campo degli azioni specifiche perché riguardano una legge che è la 328, prevista già da qualche anno, finalmente riusciamo a partire perché è stato stanziato un fondo iniziale da parte della Regione Campania che ci permetterà sicuramente di iniziare a dare delle risposte a quelle che sono le esigenze delle famiglie, delle persone con disabilità e del disabile stesso. È stata l'occasione anche per fare il punto sulla copertura finanziaria per le attività di assistenza da parte della Regione Campania con Parisi che si è detto ottimista. Ci possiamo dire che siamo un attimino più sereni perché ho incontrato il direttore generale dottore Erbolino che si è fatto carico veramente nei confronti della Regione nel far capire c'era un problema importante. Possiamo essere moderatamente ottimisti affinché veramente le famiglie non debbano subire il blocco delle prestazioni. Saremmo chiamati tra qualche giorno ad un tavolo tecnico con la ASL però il sentore è che finalmente ci siamo. Il problema è sempre lo stesso. Noi ci auguriamo che dall'anno prossimo veramente ci sia uno studio accurato del fabbisogno e non si arrivi ogni anno ad una sofferenza per le famiglie, per le persone con disabilità che vedono magari interrotte le prestazioni a metà anno. Credo che siamo sulla buona strada, probabilmente abbiamo imparato tutti la lezione quindi da gennaio ci metteremo tutti insieme con la Regione a lavorare su questo.